Mi chiamo Giulio, ho 14 anni e vengo da Serra Mazzoni. Adesso sono in prima del liceo scientifico e mi piace suonare l'obo e giocare a basket. Con CoderDojo ho imparato vari linguaggi di programmazione, scratch, arduino e un po' di elettronica. L'anno scorso ho partecipato a un concorso indetto dalla Liberty Global in cui bisognava presentare un progetto che avrebbe potuto aiutare delle persone e cambiare il mondo in un posto migliore. Ho partecipato con un progetto su scratch per i bambini con la sindrome di Dow. Ho vinto, mi è stato comunicato circa febbraio e il premio erano due giorni ad Amsterdam. Per me è più un'altra persona e tutto è rimborsato. Allora ci sono stato con la mia famiglia e io e mia madre siamo entrati all'interno della Liberty Global. Era interessante perché appena entravi c'era un muro gigantesco con tutte le televisioni, ognuna sintonizzata su un canale diverso, di nazioni diverse, che erano quelli gestiti dalla Liberty Global. Quando vengo qui in via Barchetta per partecipare ai Coder Dojo mi trovo bene perché ci sono altri ragazzi, i tutor che mi seguono, soprattutto tanta gente diversa a cui insegnare e da cui imparare. Questo tipo di attività che faccio qui mi sono servite anche a scuola in diverse occasioni e quest'anno abbiamo fatto Arduino a scuola e l'elettronica e io sapevo già creare circuiti e programmare. L'anno scorso ho creato un mouse con Makey Makey, con un'arancia e una mela. Stupendo i compagni e la prof. Consiglierei ai ragazzi della mia età di fare delle lezioni con Coder Dojo perché insegna delle cose interessanti e soprattutto nella programmazione impari a risolvere i problemi nel tuo programma da solo e senza l'aiuto di estranei che secondo me è una cosa molto utile nella vita. Consiglierei ai ragazzi della mia età di fare delle lezioni con Coder Dojo